ciao come state tutto bene benvenuti in un nuovo video di bingo che che sono io e soprattutto benvenuto in un nuovo video del mio canale youtube una cosa importante metto la pausa perché c'è il mio figlio di là che gioca e si sentono le urla quindi io chiudo un attimo e torno a tra poco palline gettone del telefono o dell'autolavaggio banco note o monete straniere franchi svizzeri rupi indiani dollari americani dollari australiani bamboline macchinine gormiti caramelle gianduiotti bottiglie di vino salami origami biglietti con numeri di telefono nasi rossi ticket restaurant sorpresine kinder bibite bottigliette d'acqua caffè macchiati e non un soldo di cioccolato mezza wings una campanella di torino 2006 barberini questo era solo un piccolo elenco di quello che ti può capitare di ritrovare un po per magia e un po per regalo dentro al tuo cappello dopo che hai fatto uno spettacolo in strada questo è solo per dirvi lunedì sera torno a pietra igure dopo l'anno scorso a fare l'unico spettacolo di strada che riuscirò a fare in liguria quest'anno mi sa se non riesco un po più avanti ma non lo so vedremo comunque vado a pietra igure che anche il mio posto preferito diciamo che la piazza un po dove mi trovo meglio e tra l'altro se vi racconto una piccola vicissitudine dell'anno scorso in tempi di covid sono arrivato a fare lo spettacolo e mi hanno bloccato lo spettacolo perché era vietato allora ho scritto un post ho scritto al sindaco e dalla settimana dopo sono tornato e potevo fare spettacolo anzi i vigili mi hanno riconosciuto mi hanno ringraziato è andata così ho riaperto la piazza di pietra ligure per fare spettacoli e questa è una soddisfazione incredibile voi non ci crederete ma veramente comunque fatto sta che questa me l'aveva lasciata il bambino giorgio qualche anno fa ad alba grazie bambino giorgio questa qua invece l'ho ritrovata in fondo al cappello sapete quando uno torna al camper rovescia il cappello e conta conti i soldi di solito ma ogni tanto ti ritrovi queste sorprese queste sorprese adesso ve ne faccio vedere altre di cui vi racconto brevemente la storia eccole di tante cose io le tengo tutte ma di tante non mi ricordo neanche dove le ho trovate ma la mezza wings della provincia di milano me la ricordo il puffo di tanti anni fa una delle prime cose strane che ho trovato nel cappello guardate un puffo vecchio è del 73 questo puffo pensate o questa è una spilla e questo e questo arrivano dalla bosnia nei primi anni 2000 sono andato due volte in bosnia per tenere laboratori di giocoleria e fare spettacoli linea cittadina di zavidovici una piccola cittadina di non mi ricordo più se cento quarantatremila abitanti o quarantatremila abitanti comunque più o meno in bosnia a due ore da sarajevo e questo è forte perché questa era non per fare la pubblicità alla marca di sigarette ma era un pacchetto di sigarette normale della grandezza normale è una ragazzina davanti ai miei occhi me l'ha trasformato totta totta e l'ha fatto diventare un piccolo pacchettino e me l'ha regalato e questo invece me l'ha costruito davanti sempre mio più un altro ragazzino con una borsetta della spesa e una moneta bucata perché lì c'erano le monete bucate e è un gioco questo è cioè di solito fa vu e torna su e di solito si gioca con i piedi una cosa simile alla peteca andate a cercare magari vi metto il link in descrizione in bosnia è stato era stato incredibile fare spettacoli lì perché la gente ti accoglieva da matti proprio addirittura vi racconto una cosa una cosa incredibile i bambini erano talmente a digiuno proprio dagli spettacoli la cosa era i primi anni duemila era finita da pochi anni la guerra devastante e arriva un clown che sono io e ho detto va dove andiamo dove andiamo e quelli che avevano organizzato il viaggio ci avevano portato in una scuola a gostovic che è vicino a zavirovici arrivo alla scuola a gostovic mi fanno quelli che hanno organizzato cosa farà io già pensavo di fargli delle sculture di palloncini o sapete che non facevo a tempo a tirar fuori i palloncini che loro venivano a prendermi il palloncino vuoto cioè sgonfio non mi davano il tempo di gonfiarglielo di fargli la cosa poi sono riuscito anche a fargli capire che magari se lo gonfiavo era un pochino meglio e quindi è stata una bella giornata anche se vi dico sul momento sembravano quei cartoni animati dei beatles con tutta la gente che li insegue e quindi ho sudato abbastanza però alla fine alla fine come direbbe un calciatore professionista abbiamo portato a casa il risultato ecco si suda un po col cappellino però ecco comunque basta parlare di aneddoti parliamo di una cosa intrinseca una cosa bellissima cosa vuol dire se un bambino va beh questa è una ragazzina se un bambino ti dà un suo giocattolo forse vale molto di più di 5 10 20 euro di un genitore di un adulto perché loro si sono privati di un loro giocattolo di una cosa con cui loro giocavano e voi sapete quanto sono gelosi dei propri giocattoli bambini soprattutto quelli un piccoli sicuramente quella che mi ha dato questa bambolina era piccolina ma però ha avuto piacere di darmi qualcosa di suo e questo è una roba fantastica se anche voi siete artisti di strada o avete fatto spettacoli in strada e vi hanno regalato qualcosa di particolare qualcosa di strano qualcosa che non è la solita bancorota o la solita moneta scrivetemelo nei commenti che io sono curioso di sapere cosa è finito nei vostri cappelli detto questo vi invito a iscrivervi al mio canale adesso con l'estate è un pochino più faticoso tenere il ritmo dei video però io tento di fare comunque sempre video alla settimana e tutorial o curiosità o altro mi raccomando ricordatevi che col codice sconto bingo show su fabbrica magia punto com avrete pure il 10 per cento di sconto su tutti i vostri acquisti quindi cosa aspettate se volete iniziare con la magia se volete anche comprarvi un libro e imparare cose nuove che possono servire anche a uno che non è un mago andate lì su fabbrica magia punto com e comprate ricordate il codice sconto bingo show molto semplice ora vado che andiamo a far merenda con mio figlio ciao e alla prossima ciao ciao ciao